Intro Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di JumpyTech Siamo ritornati finalmente con un nuovo gioco Gioco che stanno facendo in tantissimi su Youtube Ma voglio portarlo anch'io perchè è un gioco che seguo praticamente da quando l'hanno annunciato E non vedeva l'ora di metterci le mani E' finalmente uscito oggi per voi ieri E stiamo parlando ovviamente di No Man's Sky Gioco che ragazzi mi piace davvero davvero un sacco Non so perchè ma mi intriga un fottio Ci sto giocando da circa un'oretta Ovviamente ho già riparato l'astronave e tutto perchè vi faccio vedere Praticamente in questo gioco bisogna sostanzialmente sopravvivere ed esplorare i pianeti E' un gioco single player in teoria Potrebbe essere tranquillamente anche multiplayer Ma è impossibile incontrarsi appunto con un proprio amico Allora dove cazzo sono? Come verrete sono in questo pianeta che è praticamente il pianeta di spawn E come obiettivo ho quello di lasciare il pianeta E sedire sull'astronave per decollare Astronave che ho già riparato perchè sono proprio le cose iniziali che si fanno durante il gioco Ma ovviamente non ha senso che vi faccio vedere queste cose Perchè sicuramente le avrete già viste in svariati video su youtube Ma una cosa che è strana che ho visto e che non ho visto fare ad altri E praticamente ragazzi questo rifugio Perchè come potete vedere sono distante a merda dalla navicella Cioè praticamente 24 minuti E' tipo da mezz'ora che cammino E praticamente non so che cazzo è Mentre venivo qui anche in questo punto Perchè questo gioco bisogna esplorare sostanzialmente E ho esplorato Ho trovato davvero un sacco Ma un sacco di cose Tra l'altro un upgrade tipo una costruzione strana Che mi ci sono infilato dentro e mi sono upgradeato Mi sono upgradeato l'extotuta E al posto di avere 12 slot Ne ho 13 Molto figo come gioco Mi piace davvero davvero un sacco E adesso praticamente siamo arrivati a sto cazzo di rifugio Che è la prima volta che lo vedo Perchè ho startato praticamente un minuto dal suo arrivo Dal mio arrivo E che cosa possa fare io qui Cioè che cazzo Allora Ok perfetto Pian e vuota Non scoperto Ok perfetto Siamo probabilmente arrivati al rifugio Questo forse serve un chip di bypass Sì perchè ogni tanto si trovano queste cose Bisogna inserire chip di bypass Che ovviamente si possono craftare Non so che roba siano tutte queste Macchinario danneggiato Scoperta nuova tecnologia Impatto raggi tau Ma in ta Che cazzo è sta cosa ragazzi Oddio Roar Esportatore Repurazione G Cattuale Consumatore Il pilota Abbatte il becco Per indicare di essere disposto a fare affari No ragazzi Io voglio questa astronave Cioè ho riparato la mia Ma non me ne fotte un cazzo Voglio questa Fai un'offerta per l'astronave dell'estero Vendi oggetti all'estero Ah praticamente questo è tipo un venditore E possiamo comprare questa astronave No no voglio l'astronave per forza Astronave attuale 15 slot Nuova astronave 22 slot No ragazzi io voglio questa astronave del cazzo Ragazzi sono dentro un fottuto rifugio Ciao Tu sei il venditore? Si si sei l'emisterio commerciale Ragazzi oh mio dio Sono dentro al cazzo di rifugio di questo Signore Interagiamo con questo Interagiamo con questo Perché ho l'astronave piena e non posso interagire Che cosa cosa mi vendi? Allora io voglio quella cazzo di astronave Cioè me la devi dare per forza La piccola creatura è intenta a contare i suoi profitti Quando faccio la mia comparsa Spala anche i suoi occhi in previsione Il primo contatto Da un buffetto in testa all'estero E mi scuso per non essere in grado di aiutare Oh gli diamo una punga in testa Che cazzo ne so Il mercante mette un gas maleodorante No la tua riposizione tra i geek è peggiorata No cazzo magari mi faceva gli sconti Tipo come cazzo devo comprare Andiamo ad attivare questa cosa Che è quello rifugio Della cosa per la quale sono venuto qui Ok punto di regenerazione salvato Che cazzo sta succedendo? Tra l'altro io mi chiedo no Io devo andare alla mia navicella Che è là sotto porco due Però io adesso non la voglio Cioè non la voglio più quella Io voglio quella nuova Tra l'altro pure ho scoperto Che c'è sta Che c'è sta cosa ragazzi Che è tipo una cosa aliena Una cosa extraterrestre Non so che cazzo è Però proviamo ad entrare dentro sto coso Se si può entrare Sì che si può entrare Che roba è? Oddio che figata Temperatura stabile Ok perché ogni volta che usciamo Poi la testa temperatura Dispositiva interagisci 191 unità sono state accreditate Sul tuo conto Ma che cazzo sono i soldi? Legendcicopledia Hai appreso la parola geek Per dare Non sto capendo un cazzo Cioè ragazzi è talmente vasto Questo gioco Allora dobbiamo costruire Un fottuto chip Di bypass Perfetto Costruiamo sto chip Di bypass Che si costruisce così 10 pezzi di ferro Che lo possiamo trovare Tranquillamente Dappertutto Perché questo cazzo È un pianeta Fatto col ferro Quindi 10 Perfetto Abbiamo preso 10 pezzi di ferro Costruiamo sto chip Di bypass E poi proviamo a prendere Quella navicella Perché non ho capito Per quale motivo Non me l'ha data Allora dobbiamo costruire Il chip di bypass Che cazzo trasferisco Intanto ricarichiamoci L'energia E lo azicchiamo Qua dentro E che cosa cazzo succede? Cerca punti di interesse Vicino Ah questa cosa L'ho fatta già prima Praticamente possiamo Cercare un punto Di interesse vicino Che possiamo cercare Il monolito Che è quella cosa aliena Che vi ho fatto vedere prima L'avamposto coloniale Che non so che cazzo sia Il rifugio è quello Dove ci rimane cerchiamo L'avamposto coloniale Adesso tipo ci tocca Un punto della mappa Un punto di interesse Sulla mappa Dove possiamo appunto Andare Per scoprire Altre cose Di questi pianeti Perché sono veramente enormi Impianto di produzione Rilevato Mi ha rilevato Un impianto di produzione Di non si sa che cosa Ma No porco due Dov'è la navicella? La volevo troppo Oh figlio di puttana Mi devi dire Brutta merda Vieni qua Vuoi il carbonio per parlare? Ma sei proprio un pezzo Di vucumprate il cazzo Adesso parla con me Ti prego Non so cosa stai dicendo Il mercante Mi osserva Con occhi pieni Di curiosità Batte il becco Diverse volte E mette Un odore neutrale E attende la mia risposta Richiedo carburante Richiedo guarigione Richiedo ricarica subito Richiedo carburante Ma non posso cliccare niente Perché non posso cliccare niente? Sempre se si spawna Eccola qui Porca toia Ogni tanto c'è Ogni tanto no Vieni qua Dammi sta navicella Ti prego Dai dammela Per cortesia La voglio troppo Ah forse ho capito Vuole 306.000 unità Ma io ne ho solo 191 Quindi come cazzo faccio a comprare St'astronave del cazzo? Mi sa che non posso Quindi Devo rifiutarla Ciao E se ti vendessi degli oggetti Tanio Per 15.300 Oddio Porca toia mi mi do un sacco di soldi Adesso gli vendo pure l'anima Pacco tutto sto pianeta Ve lo giuro Minchia mi vendo pure il culo Per quella navicella Vai ferro Prendiamo il ferro Non mi ricordo se potevo venderglielo Però intanto Cassiamo questo Questo coso Che mi dovrebbe dare un sacco di ferro Se la mia arma Resiste Non c'è più la navicella Non capisco perché la navicella Ogni tanto c'è E ogni tanto no Non vorrei che poi magari Dopo che mi vendo pure il culo Non spawna più sta merda Tra l'altro non so se ogni volta Cambia il commerciante Non lo so 21.000 unità L'erba geek Figa un sacco Ti prego troviamolo 347 unità Sì Perché adesso costa un milione Che cazzo significa Ora che costa un milione Ah forse perché cambia l'astronave Rottami Pass dell'Atlante Questo che cos'è Chip bypass Sì io lo voglio Chip bypass Mettiamo sto chip Che cosa fa sta casa Sta cosa Richiamo astronave Ah la richiamo Ma è la mia astronave Ma è la mia fottuta Astronave Ma che ci fa qui Ma cosa significa Era meno là sotto Ma si è teleportata Ma si è teleportata E adesso come cazzo faccio A far atterrare quella Per comprarmela Signore Mi da la mia Astronave La sua astronave Ma mi sa che per oggi L'astronave Non ce la compriamo Nonostante abbiamo dato il culo A quello Ci siamo fatti 75.000 soldi Non possiamo comprarci Questa astronave Va bene Ce l'abbiamo provato Abbiamo esplorato un po' Questo pianeta Andiamoci un'affanculo E decolliamo Ma la posso guidare Tipo Qui Dove vai Dove sta andando Adesso andiamo a scoprire L'altro pianeta Figa Ma io volevo l'astronave Quella nuova L1 R1 per il salto impulso Aviamo motore impulso Boom Che figata Ottieni la tecnologia Dell'iperguida Costruisci l'iperguida Rifornisci l'iperguida Insanto dove stai andando C'è un pianeta Qui alla tua sinistra Frena Possiamo andare Su un cazzo di pianeta Che sia qualche pianeta Naderbung Amigobek Miromagmira Ah l'hai già scoperto Oddio questo è il pianeta Che sono andato prima Negli altri pianeti Quindi avvia motore impulso Allonteremoci da questo punto Di merda E voglio andare Nei pianeti un po' più lontani Perché voglio scoprire Altri biomi Perché ho paura Se i pianeti sono vicini Il bioma è lo stesso Non lo so Magari ho detto una minchiata Andiamo in questo In Neungriasse Vai Avviamo sto motore impulso Che dovremmo arrivare Molto più velocemente Arrivo fra Un minuto E due secondi Mettiamo pure il turbo Non lo posso mettere Stiamo entrando nel pianeta Stiamo entrando nel pianeta Che sembra pieno di acqua Cazzo Porca puttana ragazzi Guardate tipo L'atmosfera Nella navicella Che mi sta spaccando tutto Sì però magari Se non ci andiamo a impattare Col suolo Non sarebbe male Adesso praticamente Potrei atterrare Dove cazzo mi pare Frena Frena Oh oh Non ti impattare Frena Gira 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 Ok Qui 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 Atterraggio Vai Mamma mia che figata Sono atterrato In questo posto Assai misterioso Ma adesso tipo Io posso ripartire Con la navicella Il pianeta ha dimenticato Bioma bello Bioma bello Check Basta sicurezza E poi non ho letto più Un cazzo Però il bioma Sappiamo che è bello Navicella si è messo Veramente male Che cazzo è sta cosa Emeril Emeril è dappertutto Ok andiamo qui Ah lol Mi segna Che ho le cose da scoprire Praticamente negli altri pianeti E tipo mi dice Quanto tempo c'è per arrivarci Ovviamente no Ragazzi questo pianeta Boh Pianeta di merda Cazzo Sempre il buio Minchia Vorrei trovare un pianeta Pieno di risorse Va bene Però non c'è un cazzo Ma se mi prendessi Una navicella E me ne vado a fanculo Che questo pianeta Non mi ispira Proprio un cazzo Poi innanzitutto Entriamo qua dentro Vediamo chi cazzo c'è Che cosa è questa cosa Ovviamente Se è giusto Vanderbung Amigobek Ok Tutto verde Questo pianeta E c'è una stazione Lì in fondo L'ho vista 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 Eccola qui Eccola qui Eccola qui Ok Qui E Atterriamo Perfetto Perfetto Questo pianeta Sembra migliore Di quello di primo Palude o Achis Bioma instabile Geek rilassato Flora alto Fauna non rilavato Minchia Non c'è un cazzo Di niente Oddio Questo pianeta E' pieno di radiazioni Quindi ragazzi Siamo andati a finire In questo pianeta Pieno di radiazioni Che dovrò esplorare Per forza Quanto meno Per mettere benzina Nella mia nave Rimettere il tamium Nella mia nave Per appunto Poi andare Negli altri pianeti Perché Questo si Non mi sembra bellissimo Però lo esploriamo Perché Dobbiamo esplorare Quindi un attimino Ovviamente In off camera Giocherò un sacco Per portarvi poi Tutti i vari Aggiornamenti Nei prossimi video Qualora ovviamente Questi video Vi possono piacere Fatemi sapere Anzi qua sotto Cosa ne pensate Di Nome Sky E se vorreste Ovviamente Altri video Vi direi che per questo video Posso essere tutto Come sempre Se vi è piaciuto Invitare a lasciare Un bel pollice In sotto a questo video Da Giabite Che è tutto E ciao Ciao